suggerirei… togliere questo ma Facciamo del data Fami sui analoghi Dicevo che era senza… Magari ci accendi la luce lì che ci vediamo No, fanno solo la suoma sui ovchi … ma toliziamo così solo, adesso vado fuori? Un sguardo più intenso? Non da mio, però ho detto intenso. Torno ad allargare, facciamo così. No, no, sui occhi. Ho capito, ma partiamo da lontano. Ok, come prima. Un po' di luce, come si deve. Oh, direi che così va benissimo. Le interviste doppie serie adesso, faccio silenzio, tranquillità. Un po' più intenso, per favore. Sembri uno che gli stanno parlando e non sto capendo un cazzo di quello che sente. Hai fatto un attimo? Sì, ho fatto. Posso dirlo? Eh, adesso un attimo. Sposta la gambina a farlo. Quale? Quella sinistra. Quella piccola.